grazie luigi e grazie laura e buonasera a tutti i partecipanti sempre con grande piacere mi unisco e partecipo a questa iniziativa in quanto credo fermamente in tutta quella che è l'attività della dell'associazione e dato anche il tempo davvero tiranno sarò brevissimo la mia vuole essere davvero una mera una mera comunicazione io quello che vorrei ecco sottolineare che riguardo quello che è l'approccio con le istituzioni le istituzioni davvero in parte possono essere viste come un limite oppure possono essere vissute anche come una matrice di opportunità e proprio per interagire con le istituzioni stesse e questo è proprio l'attuale tendenza le istituzioni hanno ormai consapevolezza che si debbono aprire al cittadino questo rispecchia anche quella che è l'attuale proprio tendenza del diritto amministrativo mi verrebbe da dire che disciplina questo rapporto tra singolo e potere quindi vi è una maggiore apertura e le istituzioni si rendono conto quanto il singolo e il privato sia davvero necessario per le istituzioni stesse quindi vi è un approccio nuovo di apertura di dialogo e mi vien da dire un approccio ormai possibilista ad una interazione concreta che poi si declina in diverse attività di questo ne abbiamo ora una proprio una testimonianza con quelle che sono le nuove attività varate dal ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che ha avvocato a sé diverse attività che prima aspettavano al ministero dello sviluppo economico tanto che anche alla luce di un'attività di coordinamento e non più di parzialità e avvarato ha inaugurato una cabina di regia proprio per sostenere quello che è il Made in Italy e quella che è la internazionalizzazione delle aziende italiane alla cabina di regia del ministero degli affari esteri è poi seguito quello che è un patto per l'export che attraverso quelle che sono sei linee direttive ha effettivamente dato degli strumenti concreti alle aziende per una migliore produzione digitalizzazione vendita di quelli che sono i prodotti attraverso i commerce finanza agevolata quindi è stato possibile davvero vedere in questi ultimi anni come le istituzioni hanno modificato totalmente quello che è il loro approccio qual è però la modalità poi da seguire effettivamente per raccogliere questa opportunità io credo che effettivamente una opportunità sia quella della partecipazione personale o meglio una partecipazione attiva da parte della associazione che effettivamente faccia sentire la propria voce a quelli che sono le competenti autorità ed io sono fermamente convinto che la l'associazione ha tutte le caratteristiche proprio sostanziali e profonde per far sentire la propria voce perché dico questo perché io credo che uno dei punti valoriali dell'istituto è proprio quello che non ha mai ceduto valore la produzione fondamentalmente è in italia i prodotti sono italiani quindi vi è una prevalenza della sostanza rispetto a quella che è la forma vi è una storia importante dell'imprenditoria italiana però io credo che il passaggio ora che viene richiesto è quello di una partecipazione personale e diretta con le istituzioni per poter interagire e far valere quelle che sono le esigenze del dell'istituto stesso gli strumenti ora ora ci sono è però necessario ecco avere un approccio proattivo verso le istituzioni che effettivamente sosterranno quelle che sono le domande e le richieste che verranno poste enrico e si è un attimo dei panni dell'avvocato cosa dobbiamo fare ma io quello che credo che ora vada effettivamente fatto cioè essere cioè presentarsi effettivamente concretamente nelle istituzioni cioè io lo sai sono io credo che in questo momento particolare gli strumenti ci sono le possibilità ci sono però bisogna essere proattivi e creativi luigi ecco io credo che è fondamentale questo cioè non si può qui delegare perché le istituzioni ora vogliono una presenza personale fisica e questo lo dimostra quella che è la cabina di regia che per la prima volta hanno coinvolto tutte quelle che sono le associazioni di categoria regioni enti quindi loro si sono aperte le istituzioni hanno fatto fin qui quello che era possibile fare e per loro però sicuramente accolgono una un'associazione come questa che è un'associazione appunto importante fatta di aziende importanti con una storia importante quindi una maggiore proattività concreta ora da mettere in in campo in campo